Vediamo oggi come realizzare un semplicissimo programma che permette di avere delle interazioni con l'utente quindi il nostro gattino chiederà qualcosa a chi utilizza il programma. Iniziamo subito. Vediamo come creare un programma interattivo. Partiamo sempre dal blocco arancione quando si clicca sulla bandierina verde. Questa volta faremo salutare il gatto quindi dirà ciao. Mettiamo qua sotto per preparare il blocco. Però lo farà aggiungendo anche il nome quindi un saluto personalizzato. Come facciamo per far sì che il gatto ci chieda il nome? Andiamo nella parte sensori. Qui troviamo chiedi come ti chiami e attendi. Quindi c'è già la domanda pronta perché è un esercizio classico. La vado a appiccicare qui sotto. Quindi il gatto ci chiederà il nostro nome e aspetterà la risposta. Quindi si fermerà lì. La risposta verrà poi inserita in questo blocco arrotondato questo balloon che possiamo andare a inserire all'interno degli spazi che hanno la stessa forma. Quindi se io facessi così, adesso faccio partire, il gatto mi dice ciao come ti chiami? Metto Paolo, faccio invio e scrive Paolo. Manca il saluto. Allora vediamo come fare a combinare due testi o stringhe. Andiamo sulla parte operatori. Qui abbiamo unione di mela e banana. Tresceniamo questo blocchetto qui. Noi vogliamo che il gatto dica ciao Paolo. Allora prendo la risposta e la infilo qua, nella seconda posizione. Questo blocco con la forma arrotondata è compatibile con il buchetto che abbiamo su dire. Quindi lo infilo qui. E qua mettiamo ciao con uno spazio. Riproviamo. Come ti chiami? Metto Paolo, faccio invio e dice ciao Paolo. Se volessi mettere anche un punto esclamativo devo fare un concatenamento. Quindi prendere un'altra unione. Finiamo qua. Nel primo ci metto unione di ciao e risposta. Nel secondo metto un punto esclamativo. Ok? Diventa abbastanza laborioso alla fine. Riproviamo un'altra volta. Metto Paolo. Faccio invio e esce col punto esclamativo. Questi video sono forse leggermente differenti dai tutorial che trovate magari in rete che sono magari un pochino più schematici perché cerco di essere abbastanza sintetico e farvi vedere i punti principali che poi potete eventualmente approfondire appunto con l'idea di portarvi magari a capire come andare a scrivere l'algoritmo. Quindi Scratch sembra un ambiente banale, magari infantile, però serve appunto per imparare come il codice funziona, come andrebbe scritto. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!